L'obiettivo è quello di dare autonomia agli immigrati che si trovano nei centri di accoglienza e quindi alleggerire il carico del costo sullo Stato e al tempo stesso rispondere all'esigenza del mondo del lavoro. Il prefetto di Veruna sintetizza così la sottoscrizione del protocollo d'intesa che avvia un percorso professionale per circa 80 ospiti dei Cassa, i centri di accoglienza straordinaria. Alvia tirocini teorico-pratici per i richiedenti protezione internazionale con percorsi formativi nel settore edile e l'abilitazione allo svolgimento delle mansioni di ferraioli e addetti alla carpenteria metallica. Coinvolti l'associazione dei costruttori edili e il centro paritetico per la formazione, la sicurezza e i servizi al lavoro. Le persone che vanno ad operare nelle imprese come tirocinanti poi l'obiettivo è quello di farle rimanere operative a tutti gli effetti nelle imprese. Con l'incremento dei lavori edili grazie al super bonus le imprese sono in difficoltà nel reperimento di mano d'opera qualificata. Sono percorsi che chiederanno del tempo, chiederanno una formazione, però soddisfatteranno sicuramente l'esigenza nostra di superiore mancanza di mano d'opera e nello stesso tempo anche quella di accogliere e di dare un futuro concreto ai migranti che possono così inserirsi nel mondo del lavoro e anche nella società.